come ti chiami io mi chiamo lorena alessandra quanti anni hai 22 19 da dove vieni sono della germania vengo del perù perché studi l'italiano e da quanto tempo lo studi perché sono stata in italia come la ragazza la pari e quindi volevo studiare italiano e adesso sono due mesi perché vorrei iniziare a frequentare l'università da tre mesi che ho cominciato a studiare l'italiano dove studi l'italiano alla cappa language school in cappa language school ti piace la scuola certo è molto organizzata certo le lezioni sono molto didattiche tutti sono molto gentili ed è più come una famiglia lorena chi studia di più te o alessandra certo che sono io che è una bugia lorena una cosa che ti piace dell'italia è una che non ti piace mi piace la gente perché la gente è più aperta che in germania e non mi piace che l'italia a volte non è tanto organizzata ma la scuola è alessandra cosa ti piace dell'italia e cosa non ti piace mi piace la ricchezza culturali che c'è in italia e non mi piace che alcune alcune volte le cose non sono molto organizzate lorena la tua parola preferita in italiano la simpatica alessandra la tua parola preferita in italiano mannaggia lorena di la tua parola preferita in italiano al contrario alessandra prova a dire 33 trentini entrano a 30 tutti e 33 trotterlando tre trentrine entrarono su cosa? Lorena, prova a dire sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra chepra. Sopra la banca non lo so. Alessandra piangi, piangi come piangerebbe un italiano. Lorena, piangi come piangerebbe un italiano. Alessandra, ridi come riderebbe un italiano. Lorena, ridi come riderebbe un italiano. Alessandra, invita un nuovo studente a studiare alla Kappa. Ti consiglio venire da noi a K Language perché è una scuola spettacolare. Lorena, invita uno studente a studiare alla Kappa. Ti invito a studiare alla K Language School perché siamo come una famiglia. Salutate! Ciao! Ciao! Ciao!